Bel risultato degli azzurri che ieri sera hanno espugnato lo stadio Bentegodi di Verona, battendo i padroni di casa per 2-0 e riscattando così la sconfitta del primo turno contro Ravenna. Il successo grazie a una doppietta di Riva al decimo e al 46esimo del secondo tempo. Numerosi cambiamenti in campo rispetto a domenica scorsa in porta Castelli al posto di Tornaghi. Davanti a lui la coppia Magli-Bossa collicata sulla sinistra. Il Como ha rischiato per qualche errore di troppo nel primo tempo a centro campo, con il Verona pericoloso in due occasioni. La prima con Castelli che riesce a respingere il tiro di Abbate, e la seconda quando Le Noci conclude a lato. Gli azzurri però resistono e vanno a riposo sullo 0-0. Nella ripresa gli uomini di Brevi e Garavaglia appaiono più tonici. Al posto di Dadalta entra Morandi al centro con Villar in attacco a fianco di Cozzolino. E arriva il primo gol, Morandi scambia con Cozzolino e poi con Villar che viene messo a terra in area. L'arbitro dà però il vantaggio. La palla è sui piedi di Riva che salta un avversario e mette in rete. La partita si fa più nervosa fino all'espulsione di Scaglia al 44esimo. Pochi minuti e al 46esimo il Como raddoppia sempre con Riva, che parte da metà campo e tira dal limite dell'area sigillando definitivamente la vittoria. E mentre in campo i giocatori festeggiano, fuori dal Bentegodi i tifosi lariani protestano. Cerca 200 quelli arrivati a Verona in possesso del biglietto per il settore ospiti, regolarmente acquistato e lasciati alla porta perché privi della tessera del tifoso, di cui però non era stata indicata l'obbligatorietà. Visti disagi, si legge sul sito ufficiale del Calcio Como, la società sta valutando in queste ore la possibilità di intraprendere azioni legalmente utili verso la società che detiene i diritti e gestisce la vendita dei biglietti.